Ok, innanzitutto devo confessarvi che ero un po' con l'acqua alla gola riguardo alla recensione di oggi. Il fatto è che, a seguito del fatto che ho appena finito la saga di Shrek, e volevo iniziare un'altra, ma sapete che sono uno che non è che finisce una saga e poi inizia subito una, diciamo che cerca di... insomma, come sapete, io tra un film e l'altro di una saga metto sempre uno o due video di altri film, e anche tra una saga e l'altra metto sempre un video in mezzo per aiutarvi a... non so, a seguire meglio i miei video. Ho pensato che fosse giusto farlo anche stavolta, mettendo un video in mezzo al problema, che ero semplicemente accorto di idee. All'inizio avevo pensato di puntare su un film della Disney, anche perché tra l'altro ieri ho visto un nuovo treno di Peter e Wendy, e porco cane ragazzi, mi è piaciuto un casino, quindi volevo parlarvi di un film di Disney, solo che... ultimamente ne ho parlato tantissimo e non mi... non mi è avuto in mente nessuno di cui parlarvene. Ho già detto Frozen, ho già parlato di Encanto, ho già parlato di film anche un po' più avvicinati come... Crebisette Nani, Bambi, Fantasia, Pinocchio, la carica del 101. Pinocchio non l'ha mai recensito, non mi è molto interesso, cacchio. Non l'ha mai recensito Pinocchio. Quello del 40 intendo, quello del 40. Cacchio, ma sapete che non sarebbe una cattiva idea parlare di Pinocchio, visto che è un capolavoro. Vabbè, ormai quello che ha fatto è fatto, quindi... Tanto vale parlare del film di oggi, che tra l'altro mi è venuto in mente, perché Frank Tripp, che ringrazio cortesemente, sei sempre gentile, sempre pieno di buoni così, grazie, ti adoro. Sei un fan accanito, ti ringrazio tantissimo, sei sempre dalla mia parte, grazie. No, dicevo, Frank Tripp mi ha fatto una bella lista di film che vorrebbe che recensissi, e siccome la maggior parte sono film che adoro, e che tra l'altro ho visto anche molte volte, ho pensato di andare a guardare da quella lista, e mi è venuto in mente il film di cui parlavi oggi. E quindi, ciao a tutti ragazzi. Io sono Cristian Antelini, ed è veramente benvenuto nel mio canale, Il Giovane D'Agofino Rosso. Quest'oggi fermo la recensione di Quei Bravi Ragazzi, capolavoro di Ettore Martin Scorsese del 1990, scusate se faccio così perché sto guardando la pace di Wikipedia perché non mi ricordavo l'anno di uscita, errore mio, scusate, e vincitore dell'Oscar premio attore non protagonista, andato a Joe Pesci, che interpretavano i protagonisti del film. Ma prima di cominciare una cosa importantissima, qualora non aveste visto il film, non vi ho dato a questo punto. Se poi c'era avete visto, mettervi comodo di buon divertimento, innanzitutto, partiamo con la trama. Dunque, Quei Bravi Ragazzi, racconto la storia di, un attimo che leggo il nome del personaggio, la storia di, un attimo solo, lettono, Harry Hill, questo giovane che, di origine italo-americana se non ricordo male, decide fin da picco entrare nella malavita, e grazie all'aiuto di altri personaggi ci riesce, e nel corso del film, noi scegliamo la vita di questo personaggio, nella malavita, e i suoi collegamenti con altri personaggi, sempre della malavita. Quante volte ho fatto malavita? Penso che l'ho avuto abbastanza volte per farvi capire, no? Bene, passata parte la trama, vado a illustrarvi la mia opinione. Allora, innanzitutto devo confessarvi una cosa che, anzi no, innanzitutto penso che ci sia una cosa importante da dire su questo film, e cioè che è uno di quei film su cui c'è poco da dire. Questo non perché è brutto, ma perché è uno dei più più belli di sempre. Non tra i miei preferiti, a me, cioè per un po' lo è stato, ammetto, non so se lo ricordate, ma c'è stato un momento in cui l'avevo inserito nella classifica dei miei film preferiti, poi ho cambiato la classifica, quindi il film non c'è stato più, però al di là di questo io questo film lo adoro lo stesso, è un film che mi è piaciuto tantissimo, l'ho visto un sacco di volte, è sempre con piacere perché Martin Scorsese, realizzando questo film, ci ha legato veramente un capolavoro, e questo per vari motivi che ovviamente vi esporò più dettagliatamente. Allora, innanzitutto partiamo dalla sceneggiatura. La storia è notevole, veramente. Il film dura un bel due ore e mezza, ma è strutturato benissimo, il film non è lento, è strutturato bene, i vari eventi della storia sono ben collegati tra di loro, insomma, per dire semplicemente la sceneggiatura è impeccabile. Poi abbiamo ovviamente i personaggi, scritti bene e interpretati meglio. Ovviamente, sopra ognuno, il trio principale, ossia Ray Liotta, che interpreta il personaggio, appunto, protagonista, poi vediamo Joe Pesci, che interpreta il personaggio di Tommy DeVito, per il quale è stato giustamente abbinato con l'Oscar, e ovviamente Robert De Niro, che interpreta Jimmy Coltway. Tra l'altro, come forse saprete, quest'ultimo ha fatto un suo dalizio con Martin Scorsese molto duraturo. Infatti, due erano una volta insieme in tantissimi film, e sempre con grandi risultati. E qui, ennesima volta in cui è successo. Tutti gli attori di questo film sono stati incredibili. In particolare, quelli che mi sono rimasti più impressi, oltre ovviamente al già citato Robert De Niro, che è un attore strepitoso, 3 milioni, non so, da sua generazione, ma in assoluto, devo citare anche Ray Liotta e Joe Pesci. Tra l'altro, se quando dico Ray Liotta vi sembra che io sia un po' triste, un po' così, è perché, non so se lo sapete, ma Ray Liotta l'anno scorso purtroppo è venuto a mancare, mentre stava girando un film con un regista. Adesso, sinceramente, non so quale sia questo film. Non è Cocaine Urso, come alcuni pensano, no. Quando è morto aveva fatto in tempo a girare tutto il film, quindi no, non è Cocaine Urso, che è dato è asciutto da poco e... Tanto sono curioso. Voi cosa ne pensate di Cocaine Urso? Io non lo voglio guardare, perché mi sembra un film demenziale, a me i film demenziali di solito non piacciono. Poi vabbè, ditemi la vostra, se l'avete già visto, se pensate di guardarlo, fatemi sapere. Ma comunque, tornando al film, i tre protagonisti sono stati davvero incredibili. Ray Liotta, devo dirlo, in tutte le altre opere in cui l'ho visto non mi è piaciuto, anche se devo confessarvi che oltre a questo film l'ho visto in Svamolati on the Road, dimenticabile commedia, che vi spero non abbiate visto, perché è davvero imbarazzante, e un altro paio di film che adesso non mi vengono in mente. Ah, e ovviamente anche in B-Movie, in cui doppiava un personaggio che in realtà era lui. Cioè, doppiava se stesso, perché in B-Movie c'era un personaggio che era lui, era lui nel senso letterale del termine, quindi doppiava se stesso. E devo dire che lì comunque è stato bravo, perché ha dovuto doppiare, e ha fatto anche un buon lavoro. So che ha vinto l'EMI per la Westar, per un'imparizione in ER, ma siccome non ho mai iniziato la serie, per pura mancanza di voglia, non posso dare opinioni in proposito. In questo film comunque Ray Liotta ha saputo darsi davvero da fare, intimitando un personaggio che è davvero interessante, e che lui ha reso ulteriormente interessante grazie alla valità della sua interpretazione. E ovviamente anche Joe Pesci, stessa cosa. Il personaggio Joe Pesci è uno di quelli che funzionava lo stesso, perché comunque l'evoluzione di scrittura è incredibile. Ma lui ha saputo valorizzarlo tanto. Ma non solo lui, tutti. Come dicevo poco fa, tutti i membri del cast hanno fatto un lavoro incredibile in questo film. E poi ovviamente, oltre a tutto questo, abbiamo ovviamente la regia di Marty Scorsese. Un regista davvero incredibile, che penso di aver già lo dato in passato, ma una volta in più non fa male, e che in questo film ha mostrato ulteriormente come si è indiscutibilmente uno dei più grandi registi di sempre, che ha saputo con questo film realizzare un'opera cinematografica di grande valore, in cui sceneggiatura, regia, interpretazione e un reparto tecnico si fondono a meraviglia, realizzando un'opera cinematografica che giustamente ha battuto la prova del tempo e ancora oggi, dopo 33 anni, resta indubbiamente uno dei film più belli di sempre, sia per regia che per tantissimi altri motivi. E a questo punto il personaggio di aver toccato in cui sono andandomi nella mia votazione numerica. In un voto da un 10 do un convintissimo 9,5. Ma a questo punto, come sempre, tocca a voi. Voi cosa ne pensate di che bravi ragazzi? Siete d'accordo con me sul fatto che sia un capolavoro indiscusso e anche per le motivazioni che vi ho detto? Oppure pensate che siamo i film più sopravvalutati del regista? Tra l'altro, ragazzi, una domanda che non penso di aver fatto è questa. Qual è il vostro film perfetto di Marti Scorsese? Il mio, almeno per il momento, è Hugo Cabret. Dico per il momento perché non vedo a rivedere il film che uscirà quest'anno, per me sarà una roba immensa. Ho saputo che durerà 4 ore, ma non me ne fiega un cavolo. Quando uscirà il cinema io sarò lì a vedere. Anche se durasse 10 ore, io sarò là. E voi? Voi che le dedite? Anche voi sarete lì? Fatemi sapere nei commenti. Bene, per oggi è tutto. Spero che la ragione vi sia piaciuta. E come sempre, se c'è qualche fichetto che ci esisca, fatemi sapere nei commenti. Vi auguro una buona giornata. Arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao.